Salve a tutti! come va? state comodi? allora se non state comodi mettete i comodi perchè come vedete anch'io mi sono messo qui questo divanetto comodissimo veramente molto comodo e vorrei spiegarvi cos'è state comodi state comodi è un esperimento non è niente di particolare non è un esperimento scientifico di chi sa quale geniaccio è un esperimento volontario che ho voluto fare proprio personalmente state comodi è un esperimento di intrattenimento che consiste in alcuni filmati su youtube che potete vedere come, dove e quando volete voi più comodo di così? ci sarà musica ci sarà poesia ci sarà cinema si parlerà di spettacoli di attualità con un pizzico di satira ovviamente e quindi ci sarà anche realino in varie forme in varie vesti non solo quella abituale di commentatore di attualità o di poeta ci saranno collegamenti via skype così siamo attrezzati nel caso in cui anche il papa volesse telefonarci e quindi collegato via skype da qui da questo computerino da questo portatile potrebbe intervenire magari per parlare del tango argentino ecco ad esempio una cosa artistica del tango un bando tradizionale che conosce molto bene il santo padre salve e ci saranno ovviamente degli ospiti per quanto mi riguarda mi limiterò a stare davanti ma anche ovviamente dietro alle telecamerine il che mi permetterà sia di interagire con gli ospiti che di controllare ciò che viene registrato e quindi iscrivetevi sempre con calma al canale youtube di più intrattenimento cliccando qui in alto e poi guardatevi il video consigliato qui in basso quindi iscrivetevi qui in alto ci vediamo presto e mi raccomando state con ciao ciao ciao